Musica Davide Manfredi, Spartalitta, che siete all'esordio davanti alla nostra telecamere quindi eravamo anche curiosi di vedervi sappiamo che siete una buona squadra perché avete avuto anche altri risultati adesso vi state cimentando con zona gol e quindi c'era curiosità oggi è una partita, devo dire che è finita bene per voi 6-2 però comunque è una partita difficile ho visto delle buone individualità, ho giocato bene al calcio cosa dirvi questa squadra? Beh, innanzitutto che noi siamo contenti di essere entrati in questo nuovo torneo è tanto tempo che giochiamo insieme però è la prima volta che proviamo a fare un torneo come zona gol quindi siamo contenti dei risultati che stiamo ottenendo e speriamo che continuino Senti, immagino che non conoscete altre squadre quindi adesso questo torneo d'apertura per voi è un po' un punto di domanda poi farete il campionato quindi vi cimenterete con tutte le squadre avete guardato qualche altra partita oppure vi limitate a fare il vostro? Ma guarda, sinceramente io personalmente no è un tattico che fa Sì, sì, abbiamo i nostri piccoli maniaci e si occupano loro sia dell'organizzazione della squadra che anche di controllare gli avversari Partite di terminazione diretta, state andando avanti, si può vincere facendo i scongiuri che nel calcio non fanno mai male? Non ne ho la più pallida idea, non conoscendo le altre squadre non so qual è il livello delle altre squadre so da quello che ho visto il livello qui è molto alto per cui tutte le partite saranno difficili speriamo di andare avanti il più possibile Faccio complimenti, ci vediamo alla prossima Grazie Ciao